Diciamo che io nella vita mi sarei aspettato di tutto, ma mai che un giorno avrei preso il posto dei Simpson Ci sono 3000 e passa video sul mio canale, cose che possono ancora succedere, voglio dire Quindi ne abbiamo qua, c'è anche roba di apocalisse, quindi speriamo che non succeda un gatto Secondo alcune fonti, Trump non avrebbe perso l'orecchio, nemmeno quello, se ci fosse stato il difensore number one Ci si muove così e ci si butta, alla fine, che cos'è? Perfetto, perfetto, una sedia, ho salvato una sedia Non avevo fatto una partezza così di merda neanche nella prima volta, ah, slow motion col tasto destro E' perché una volta sapevo leggere, adesso no, capiamo, capiamo un attimo perché qua è difficile Sal, porca put... Presidente, ah, l'ho buttato giù, quindi non lo può colpire Ah, quindi l'obiettivo non è mettermi in mezzo, si tolga lì Ho perso un orecchio di nuovo Eh, l'obiettivo non è prendere il proiettile ma buttare giù Trump prima che lo colpiscano, capito? Cioè, quello è l'obiettivo Non si salva comunque a quanto sto vedendo, però... Posso lanciare le sedie, non è vero Cos'è successo, scusa? Ho perso il parrucchino, ma l'ho salvato? No, è morto, vabbè, mi scusi e rifacciamo Allora, aspetta, 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 aspetta Quindi l'obiettivo è colpire Trump È molto più cinematico se lo intercetto C'ero quasi, porca, aspetta, aspetta che ci provo Sì! Micchia, non mi pagano abbastanza Quindi si può anche prendere il proiettile prima Non so come, tanto a me non mi ha fatto niente Cioè, io sono fatto di titanio Allora, ragazzi, sto gioco l'avevo finito Non credo di poterlo finire di nuovo Anche perché non sono più così schilato una volta Ma break the wall Ah, c'è un'altra angolazione, bellissimo Bellissimo sta parlando Ma ricordo... Non mi ricordo niente, raga, di sto gioco Madonna, che fenomeno Non mi ricordo niente Dai! Ma dove vai? Ma cos'è? Alzati! Madonna, smidollato forte Eh, non lo prendo Sì, vabbè, ma che scarso Forse ci arrivo Madonna, vai giù! Yes! Oddio Ammazzami Eh, va bene Ma posso entrare là dentro? No, si sfonda tutto Beh, bello e buono saperlo Andiamo avanti Ma, presidente, si tolga dai coglioni Non vede che qua... Oddio! Attento! Oddio! Basta, basta bombe L'ho fatta Credo Perfetto Lei è salvo Dove va? Cosa ti fa? Oddio! A caso? No, vabbè, ragazzi Sto giocando una se... È morto È morto da solo Ok Ah, qua devo crucciarmi? Ok Ah, questa è la faccia Questa è molto semplice A me non spari un'altra volta No! A posto Salve! Ah, sono tutti uguali questi qua? C'è solo la stessa persona Che vota per Trump È solo moltiplicata Va bene Ma perché non riesco a fare... Perché non riesci a stare in piedi normalmente? Donna de' Dio Salta! Aiuto! Non è vero Che salto ho fatto Minchia! Come ho fatto a fare questo salto? Cos'è? Ma cos'era? Come ho fatto a fare sta roba? Veloce! Madonna! Eh... Ma niente, ragazzi Ormai sono in casa Penso solo ai soldi Oddio! Se avessi detto sta frase ai tempi Gli haters si sarebbero tipo Ci arrivo Ci arrivo Col piede Madonna! Incredibile Sta diventando più difficile Oddio! Cos'è? Sta vita la guardia del corpo Non me la dovete far fare È terribile Salvalo! Minchia! A posto Grazie! Come ci arrivo? Quando non ci arrivo? Come ci arrivo qua sopra? Non ci arrivo mai Ah, butto giù lui? Posso buttare giù lui? Aspetta Perfetto! È andato giù? Madonna! Chi cazzo è? Cos'è? È uscito da Mad Max Cos'è sta roba qua? Chi è che li deve? Chi li sta sparando? Nessuno Che sono fare qua? Oddio! È caduto un tacco gigante Beh, ci sono nuovi modi Vedo che è Trump dovrebbe pensare Visto che sto gioco prevede il futuro Trump, stai attento ai tacco Non si sa mai Si può togliere dalle palle Perfetto Oddio No, è morto con la bandiera Togliti Togliti Ma no! L'avevo spinto Ci si può anche spingere Eh, va bene Cioè, posso anche spingerlo Ed è più facile teoricamente Perfetto Però devi muoverti di nuovo Forse non ci arriva Non ci è arrivato Sono un fenomeno Ho anche liberato la famiglia Ho fatto la side quest Front flip Ah, ecco come ho fatto prima Sembra una cagata Ma è difficile E non è neanche il gioco più stupido Che io abbia mai giocato E voi lo sapete ragazzi Beh, perfetto A posto? Attenzione perché Qua ci sono altre premonite Vi giuro Non ho capito Cos'è succede Questa è la mappa di Call of Duty Cosa? Ha preso fuoco Quindi devo salvarlo Prima che prenda fuoco Ma mi lancio da qua Faccio prima Si tolga Ma poi Ma come c'è finito In questa situazione qui? Ma come c'è finito mai Da sopra? Non ho capito Come faccio a togliere Ma l'avevo fatta In questa parte Non me la ricordo io Perfetto Ottimo Ah, beh Meraviglioso Ti devi togliere Madonna ce l'ho fatta Bravissimo Vado a fare un salto Chilometrico Non ho fatto per niente Ah, devo saltare su Ho capito Uno Due No Uno Ah Uno Addio Lo prendo Non lo prendo Non l'ho preso Porca pittana Eh, vabbè È terribile ragazzi Cioè, ho fatto Apposta per Farti girare le palle Ma attenzione Madonna, bravissimo Troppo bravo Troppo bravo Anni e anni di gaming E poi uno dice Ma cosa hai fatto nella vita questo? Poi intanto L'intelligenza americana Prende spunto Vasti video Io non ve lo voglio dire ragazzi Ma è così Vedi anche demonetizzato Questo video si vede là Ma lo sapevamo già questo Noi lo facciamo per la gloria Non per i soldi Prendilo Ah Dai Non ci voglio credere Preso Madonna incredibile Perfetto Oh sì Adesso sì che salvo Ho salvato il presidente Apposto Non lo vedo Non lo vedo Non so dove Ho preso l'obiettivo Presidente 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 Non vada lì Eh vabbè Un disastro Madonna Eccoci Perfetto Salve Buongiorno Come va? Ah ragazzi ce l'ho Front flip Perfetto Ballettino Lo prendo Ce l'ho fatta L'ho anche fatto In tryharding Attenzione che quella è una pizza E niente Rifitoli Quindi Alla fine Però l'importante è che ho fatto il mio lavoro Lavoravo fino a quest'ora Ma senza lo slow motion ragazzi È impossibile Cioè come fai? Oddio Forse riesco Bravi No vabbè Incredibile Incredibile Troppo bravo Eh vabbè Non ci arriverò mai di qua Perché c'è il braccio Ma mica devo fare un giro atomico Come fa? Oddio Oddio Sono Tom Cruise Minchia Non è vero che non lo prendo Dai Ma non è vero mai Ho fatto una cosa epica Oddio Ci ho fatta Ci ho fatta Bravi Nessuno si ha fatto domande Ma va bene così ragazzi Ok Mi piace quando c'è l'altra scena Cioè è molto più cinematica la cosa Minchia Eh vabbè Devo muovere il pezzo di legno Di sopra L'ha preso? Non l'ha preso Non l'ha preso Non l'ha preso È caduto ma non l'ha preso Cioè è morto in altri modi Non è morto Eccolo È finita? No ancora uno È lungo sto gioco Incredibile Sono impegnati a farlo Non so come Porca puttana Devo fare il front flip No Non devo fare Cos'è? Oddio Non riesco a saltare Come faccio? Non ci arrivo Devo fare Non devo saltare? Devo saltare prima Oddio Madonna Cosa ho fatto? No come ho fatto a fare sta roba? Oddio Eh vabbè Che è successo un disastro Cosa? Come ho fatto a fare Oddio No vabbè Incredibile Incredibile Fortissimo Non ho capito niente Di quello che ho fatto Le sedie Hanno messo delle sedie Delle sedie Madonna Non è vero Incredibile L'ho calciata Dov'è? Dov'è? Vabbè Sono morto Dov'è? Cosa devo fare? Dov'è? Ma dov'è? Ah è lì Ma scusa Non posso fare così Faccio molto prima C'ho fatto E fa il tempo che si rialza Attenzione C'è il ponte C'è il ponte Si tolga È stato molto più semplice Si tolga da lì Forse non lo prende Non lo prende Minchia Ho salvato un'ora Il livello migliore È quello che ho fatto per ultimo Incredibile Yes C'è un continuo No vabbè sto male C'è anche Questo non l'avevo mai fatto E me l'ho fermato qua Questo lo facciamo nel prossimo Se lo volete Se volete il prossimo episodio Fatemelo sapere Mi fermo qua Per questo primo episodio Bellissimo Bello comunque C'è un gioco fatto bene Il buon favij del passato Ha previsto Però per adesso Speriamo Perché ho giocato a un sacco di cose Tipo 60 seconds Quindi non ci conviene A tutti quanti Per adesso Fatemi sapere Se volete il prossimo episodio Io mi fermo qua Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti E noi ci vediamo Come sempre All'un prossimo video Bella ragazzi All'un prossimo video